A Dacilia è allarme rifiuti ingombranti e abbandonati in strada. Da anni la rotatoria tra via Andrea D'Agaressio e via Daniele Badiali versa nel degrado. I gnoti infatti utilizzano l'area per effettuare scarichi illeciti. Nonostante i regolari interventi di pulizia effettuati da Ama, il fenomeno non sembra avere soluzioni. Sono venuti circa un mese fa a fare uno smaltimento dell'Ama, ma ci stanno i rifiuti altissimi. Forse un mese e mezzo fa è andata a fuoco qua, perché buttando i rifiuti, butteranno anche le ceneri, adesso io non lo so, però è sempre pieno di rifiuti. Ci stanno secchi di mondezza, bottiglie, anche perché abbiamo una raccolta di vetro a pochi passi, però è sempre così. E poi qua la sera non c'è nemmeno l'illuminazione, è buia. Adesso andiamo incontro all'inverno, alle quattro e mezza le sere saremo al buio. Anche perché là ci stanno i ragazzi che è una superiore, quello è il Magellano, e questi ragazzi spaziano. È una discarica continua, è un degrado. Abbiamo pure paura di sera, perché ci portiamo sia i cani che c'è i cani, però che ne sai quello che trovi? Sono anni che buttano rifiuti. Periodicamente l'Ama fa questo sacrificio di prenderli, però continuamente li buttano. E disturbano anche la circolazione, perché possono essere pure un grande problema per le macchine. E secondo lei quale potrebbe essere magari una soluzione? Non lo so, può essere anche una telecamera o qualcosa, ma non so se l'amministrazione può fare questa scelta. Qui non c'è proprio educazione civica, ambientale. I cittadini puntano il dito contro gli incivili e sperano che il municipio possa trovare soluzioni definitive. Grazie a tutti.